Tecniche di danza moderna Il programma è dedicato alla promozione della danza moderna È un programma di studi che partirà a settembre 2016 Per la prima volta in Italia artisti di fama internazionali provenienti da New York Saranno invitati in Italia ogni mese per un intero anno accademico Ed offrire possibilità di studio, di approfondimento e possibilità di lavoro Tecniche di danza moderna Nasce dalla voglia di rinforzare la danza nella cultura italiana Nasce dalla voglia di creare un punto di riferimento Per giovani studenti italiani e danzatori italiani Nel nostro paese attraverso un respiro internazionale